Per il 2019 la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano avrà a disposizione 730.000 euro di liquidità per interventi sul territorio. Confermato il trend in diminuzione delle somme a disposizione, derivanti da rendimenti di un mercato che non segna negli ultimi anni particolari spunti di vivacità. Per citare una frase dello stesso presidente Tombari, purtroppo i tempi delle vacche grasse sono finiti, non abbiamo più da poter riversare sul territorio cifre a 6 zeri. Il 2018 infatti si chiuderà a 750.000 euro di investimenti su una previsione di 800.000 euro, come pure era stato per il 2017 dove si era di poco vicini agli 800.000 euro. Si arriva a questo dato partendo dalle rendite stimate all'1,75% per un patrimonio liquido della Fondazione di poco superiore ai 111 milioni di euro, che produrrebbe così un rendimento di 1.976.220 euro. A qui si sommano però le rendite degli affitti di 82.680 euro, quindi per un totale di 2.028.900 euro di liquidità. A questo totale vanno tolte però le spese fisse di 750.000 euro, sogli al di sotto della quale non si riesce proprio a scendere e che comunque assicura la Fondazione assolutamente in linea con le altri simili compagini. Gli accattonamenti poi necessari, obbligatori e volontari e le riserve e si arriva quindi alla fatidica cifra dei 730.000 euro. I capitoli di intervento principali cui la Fondazione intende riversare queste cifre sono arte e cultura, 220.000 euro, educazione e istruzione, 165.000 euro, famiglia e assistenza e anziani 200.000 euro, volontariato e filantropia 130.000 euro, ambiente 15.000 euro. Assente non pervenuto il settore sanità pubblica, ma la motivazione di questa assenza è contenuta nel documento ufficiale in cui si legge. La finanza pubblica, leggi Regione, ha investito molto nelle strutture sanitarie ed il fabbisogno di apparecchiature si è notevolmente ridotto, tanto che non ci sono pervenute richieste a tal proposito. Altro stralcio dei capitoli è quello riguardante il settore beneficenza e qui le cose si intrecciano un po' con la politica nazionale. Al netto delle scaramuce di governo giallo-verde, il reddito di cittadinanza dovrebbe entrare in vigore proprio a sostegno di quei soggetti meno abbienti che usufruivano in passato proprio di questo capitolo. Pertanto si è deciso di riversare i 130.000 euro di questo settore attraverso bandi a sostegno di associazioni di volontariato per malati, anziani, infanze e portatori di handicap. I 200.000 euro a sostegno della famiglia e anziani verranno riversati interamente sulla nuova piscina e i 15.000 euro destinati all'ambiente all'osi faunistica del Lago Vicini, gestito dall'Associazione Argonauta. Il bilancio di previsione è il massimo che si poteva fare, il massimo che si poteva fare data la situazione, l'incertezza che abbiamo in questo momento dei rendimenti e quest'anno è successo di tutto e non sappiamo quello che succederà. Però in ogni caso queste erogazioni trovano capienza dai fondi che abbiamo accantonato.